E' arrestato dai carabinieri il presunto autore dell'agguato compiuto ieri pomeriggio a Massafra in provincia d'Italia, a seguito del quale un 26enne è rimasta ferita dai vetri andati in frantumi dell'auto sulla quale viaggiava colpito da uno dei proiettili. Si tratta di Antonio Bellanova, 31enne pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo, per motivi da ricondurre verosimilmente a pregressi i contrasti personali, ieri ha sparato in piazza Vittorio Emanuele alcuni colpi d'arma da fuoco contro un altro pregiudicato 37enne, anche lì sorvegliato speciale. L'obiettivo dell'agguato, che era in sella in una bicicletta, ha evitato i colpi. Uno dei proiettili ha invece colpito accidentalmente l'unotto posteriore di un'autovettura Lancia Delta, su cui viaggiava una famiglia. Le schegge di vetro hanno causato lievi lesioni a una ragazza, i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli di calibro 6,35, nonché due ogive. L'ascolto di testimoni e le visioni delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica, consentendo l'identificazione e la successiva cattura del presunto autore della sparatoria. Contestualmente è stato denunciato per favoreggiamento personale il 37enne, obiettivo dell'agguato, che non ha riferito alcuna informazione utile ai carabinieri.